Il nuovo centrodestra allargato e pronto ad allargarsi ancora vede tra i suoi protagonisti a Bassano la democrazia cristiana. Ma com'è nata la scelta di condividere un laboratorio insieme a Lega e Forza Italia in attesa di dare il benvenuto a Italia Viva e chissà anche a qualcun altro. Vedere la Lega insieme a democrazia cristiana fa un po' specie però ci fa capire che la politica forse un po' è cambiata. La politica dovrebbe tornare a darsi una P maiuscola e nella politica vera c'è confronto proprio tra le differenze. Il confronto è il più avvincente e il più forte. Questa è una stagione di difficoltà, di evidente crisi. In questo contesto noi abbiamo aperto un tavolo, abbiamo aperto un laboratorio di confronto come l'ha definito chi mi sta intervistando ed effettivamente abbiamo incontrato le affinità, tutti i gruppi più affini, anche quelli che oggi fanno un'altra strada e poi abbiamo avuto anche la differenza che ha bussato la porta. Però una differenza, se per esempio si pensa alla radice territoriale e popolare nostra e per esempio della Lega come anche di altre forze che erano al tavolo, anche un'altra grande forza, io non amo parlare degli altri, ha superato il concetto carismatico del leader e deve tornare nel territorio e ne ha la forza. Certamente ci saranno anche delle differenze da smussare e da ridefinire ma è lì che deve intervenire la politica. Confronto sulle diversità e sui punti in comune anche per la scelta del candidato che, sottolinea Dino Secco, dovrà essere rappresentativo di tutto il centro-destra. Non è solamente un candidato che farà da protagonista all'interno dell'amministrazione comunale perché protagonista all'interno dell'amministrazione comunale sarà questa coalizione perché anche i compiti poi dovranno essere ripartiti all'interno delle varie personalità che ci sono perché dobbiamo sfruttare tutte quelle capacità che ci sono abbassando la grappa.